ciao ragazzi una splendida giornata per voi c'è sta c'è sta uno che si rompe la borsa dell'acqua calda a là di spravo che fa sono al vicino che fa senti ma mi vuoi fare un favore mi si rotta la borsa dell'acqua calda mi sto a morire freddo sai sono abituato la sera mi metto sta cosa addosso che mi scalla quello fa guarda è una brutta notizia io non la utilizzo io quando c'ho freddo più il gatto mio mi metto su le gambe poi mi metto un po sulla panza mi scalla da paura quello fa no non ci credo ammazza figo ma non è che mi ho prestato te prego mi sto a morire freddo ma come ti faccio a prestare il gatto ma ti posso prestare il gatto te lo chiedo per favore almeno per questa sera mi sto cacca sotto dal freddo però mi raccomando mi raccomando trattamo bene ok fallo per me io ci tengo al gatto mio vabbè questo gli da gatto lo porta a casa il giorno dopo gli riporta gli riporta il gatto lui tutta la fascia sgarata gli fa tiè il gatto quello fa ma che cazzo ma che è successo ma come sei tutto graffiato ma mai fatto ho detto io dove sei messo sulle gambe sulla panza ma me l'ha trattato bene ma sì sì guarda io quando mi sono messo sulle gambe tutto a posto quando gli ho messo l'imbuto un culo tutto a posto quando gli ho messo l'acqua che ha un po capicato ah 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 Grazie a tutti.